Per fermare i contagi da coronavirus nella città di Heiden in Cina si offre una ricompensa in cambio di informazioni utili dopo l'ultimo focolaio con 240 infezioni registrate da domenica. Le autorità offrono 100.000 yuan, l'equivalente di oltre 13.000 euro agli abitanti in cambio di segnalazioni su caccia illegale o contrabbando di animali. Tracciare le origini del virus e la catena di trasmissione è la priorità assoluta, dicono le autorità. Dall'inizio della pandemia la Cina conta 97.885 contagi e 4.636 decessi.